Luca Salatino, in un recente post su Instagram, ha raccontato ai suoi followers com'è cambiata la sua vita dopo l'abbandono al grande fratello VIP. L'ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato alla settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, a dicembre ha deciso di lasciare la casa per la troppa mancanza dell'allora fidanzata Soraya Ceruti. Purtroppo, però, la storia tra i due è giunta al capolinea, e a quel punto la vita professionale di Salatino è cambiata drasticamente. L'ex vippone si è allontanato dal mondo della tv, dedicandosi esclusivamente alla carriera da chef. A distanza di mesi dall'esperienza al GF VIP, Luca ha raccontato su Instagram com'è cambiata la sua vita da allora, spesso mi è stato chiesto se mi fossi mai pentito di aver abbandonato la casa del grande fratello. Sapete tutti dopo cosa è successo. Sogni di vita infranti e progetti falliti. Tutto questo mi è servito tanto. Ho capito chi sono i veri amici. Che le persone si vedono nel momento del bisogno e che se cadi in pochi ti aiutano a rialzarti, anzi, tanti godono nel vederti sprofondare. Ho capito che tante persone vanno solamente a convenienza. Ho capito che nella vita bisogna fare sempre quello che sentiamo dentro, contro ogni interesse. Che i soldi sono importanti, è vero, ma senza il sorriso non ce ne facciamo nulla. Ho scoperto che non siamo fatti per tutti e che è importante ascoltare se stessi. Ho lasciato un programma, sono uscito da tante dinamiche ed ho rinunciato a tanta visibilità. Ma ho ritrovato me stesso, ho ritrovato tanti valori e soprattutto ho ritrovato l'amore per la cucina. Se tornassi indietro rifarei quella scelta ogni volta che mi si richiedesse, perché ogni cosa che succede nella nostra vita serve ad insegnarci qualcosa e che ci vuole molto più coraggio a lasciare che a vivere per inerzia. La vita è una e se vi sentite di fare qualcosa, fatelo. Non abbiate mai paura di ricominciare, di reinventarvi e non permettete a niente e a nessuno di spegnervi e togliervi il sorriso. Grazie a tutte le persone che non mi hanno mai abbandonato, ma soprattutto grazie a chi lo ha fatto.